Salve a tutti, sono Massimo Delecese ed anch'io sono felice di partecipare all'iniziativa promossa da News for Guitar sulle pagine Facebook, Instagram e Youtube. Con Alessandro Minci abbiamo avviato questa campagna per raccogliere fondi a favore della protezione civile italiana in emergenza coronavirus. Troverete tutte le informazioni per effettuare la vostra donazione nella schermata di apertura della diretta sulle pagine Facebook e sul profilo Instagram di News for Guitar, nonché sul suo sito. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e che di qui in avanti parteciperanno e buon ascolto e non dimenticate di condividere. News for Guitar, music versus corona. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.